Al tempo stesso la conferenza ha approvato un aspetto che abbiamo trattato anche in Consiglio dei Ministri, ovvero il prezzo calmierato per i tamponi. Era un fatto estremamente importante, troviamo giusto che per i ragazzi minorenni il costo dei tamponi sia di 8 euro, di 15 euro per le persone adulte, che non ci sia un costo per le persone che non possono vaccinarsi per problemi di salute. Questo per andare incontro alle famiglie e agli italiani. Mi pare che anche l'accoglimento per quanto riguarda la validità dei tamponi molecolari delle 72 ore è un modo per accompagnare questo percorso. Da un lato c'è la volontà del Presidente Draghi di estendere il Green Pass per tutelare la salute, per non tornare a chiudere e per difendere le attività economiche. Dall'altro c'è la consapevolezza che questo percorso va accompagnato con delle misure di sostegno, quindi l'aver recepito alcune delle proposte che sono pervenute dalla conferenza credo che sia un fatto estremamente positivo.